Buongiorno a tutti e a tutte, venerdì 19 gennaio, è venerdì, thanks girl, this Friday, finalmente è venerdì, siamo arrivati alla fine della settimana, se sentite la mia voce un po' affannata e vabbè, poi ve lo spiego, diciamo solo che ieri sera ho giocato a padel e queste sono le conseguenze, tra parentesi ho anche perso, vabbè. Mi serve quindi il vostro aiuto, 331-78-53555, ditemi qualcosa perché davvero ho perso per l'ennesima volta padel e due baroni, non riesce mai a vincere, primo set non male, è 7-6 alla fine, si so che non dovrebbe, abbiamo perso all'ultimo, all'ultimo punto dell'ultimo game, l'altro set non parliamone. Comunque, 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 ho detto che è venerdì, appunto, thanks god, it's Friday, andremo verso un weekend, weekend che però sarà all'insegna del freddo e del gelo, dopo vediamo, sono tantissime le notizie che parlano di maltempo e di meteo questo weekend e oggi sui giornali, sia su Repubblica che su Corriere abbiamo entrato tante notizie del genere, vi ricordo, appunto, che con il nostro numero di Whatsapp, che vi ripeto, 331-78-53555, oltre a mandarmi qualche video, magari, che mi insegni a giocare meglio a padel, potete anche dirci cosa fate oggi, eh? Dirci come va la mattinata, dove state andando, cosa volete fare, quali sono i programmi per oggi, fatecelo sapere, noi siamo qui fino alle 9 e raccontiamo un po' di cose che hanno a che fare con la nostra amatissima città. Good morning Milano! Venerdì, 19 gennaio, vi avevamo detto, oggi è il venerdì ed è il 19 gennaio, quindi questi sono i primi due dati che abbiamo sicuri sulla giornata di oggi. 19 gennaio che nella storia vede che cosa, ma pensate, nel 1915 viene inventata, cioè o meglio, brevettata oggi, quindi chissà quanto tempo prima è stata studiata, la lampada alla neon. Robi neon, no? Quelli lì brutti che, ecco, no, in realtà, pensate, il primissimo utilizzo è stato proprio un'insegna, invece, un'insegna di un negozio di barbiere, quindi subito l'idea del neon che, appunto, illumina ancora oggi, invece, tantissime, tantissime insegne. C'era chi ce l'aveva anche in casa, c'era gente che aveva il neon in casa, c'erano un po' corsi ad ospedale, se devo dire la verità, però c'erano, c'erano dei parenti che avevano il neon in casa, adesso no, per fortuna. Tutto questo è stato superato, ormai c'è il LED, nel passaggio in mezzo ci sono stati i faretti, l'epoca dei faretti, le avevate anche voi in casa, cioè tantissima gente ce l'ha ancora adesso, abbassamento in cartongesso, faretti dentro, incandescenti, se per disgrazia lo toccate uno, che bruciavate tutti. Adesso, invece, appunto, c'è il LED, consuma meno, non scalda, anche qui in studio, se ci guardate su Milano News, siamo illuminati perfettamente a tantissime lampade a LED che non consumano, no, consumano, consumano anche loro, infatti, va bene. Poi ne parleremo un giorno, comunque, invece, nati in questo giorno, nel 1940, pensate, nasce Paolo Borsellino, come fare a non citarlo, e nel 1809, invece, Edgar Allan Poe, grande scrittore della letteratura. Insomma, moderna, comunque, insomma, tu moderna, insomma, 215 anni fa è nato, pensate, nel 1809, Edgar Allan Poe. Poi, 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 cosa abbiamo? Abbiamo anche, ah, pensate, nel 1984, invece, quindi, 40 anni fa, tonditondi, in questa giornata, a città del Messico viene fatto il primato, il record del mondo, il record dell'ora viene stabilito, il record dell'ora in bicicletta, da Francesco Moser. Prima era fissato a 49,431 km, 49 km e 431 metri, da Eddie Max, nel 1984, a città del Messico, e molti dicono, grazie al fatto che l'area è più rarefata, si erano allenati apposta per correre e fare questo record dell'ora, Francesco Moser, proprio a città del Messico, bene, il primato viene portato a 50 km e 808 metri. Insomma, un bel risultato per Francesco Moser, che, insomma, è stato uno dei più grandi ciclisti italiani, che possiamo, appunto, ricordare. Invece, gli scomparsi, gli scomparsi di oggi, nel 2016, muore Ettore Scola. Otto anni fa viene annumerato, appunto, Ettore Scola, viene annumerato tra i maestri del cinema italiano del secondo novecento, e quindi nel 2016, appunto, ci lasciava quest'oggi il 19 di gennaio di otto anni fa, 2016. Questo è l'almanacco di oggi, se anche voi avete delle date a cui siete affezionati, scrivetecelo pure, perché, insomma, siamo ben contenti di dirvelo. Questa sera c'è un bel evento, tra parentesi, al Rock and Roll di Milano, che però ne parliamo magari subito dopo questo pezzo, ma, o meglio, subito dopo aver sentito in diretta, in collegamento con noi, sulla situazione del traffico, in questo momento, in città. Vi chiedo scusa, davvero, se questa mattina faccio un po' fatica a parlare, ma il padel si fa sentire il giorno dopo. Ai, 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 se si fa sentire. Alessandro Amoroso, tutte le volte, 7 e 22 minuti, Cristiano Radio, Good Morning Milano, bentornati. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5, grazie mille ad Alberto per il suo buongiorno, che non arriva mai tardi, ed eccolo qui, buongiorno Fabio, buongiorno Cristallini e buon weekend a tutti. Una giornata ed un weekend super impegnato. Alberto, sei sempre super impegnato, dobbiamo trovarti una segretaria che gestisca tutti i tuoi impegni, perché qui è veramente complicato. Tra i tuoi impegni so esserci, perché parliamo anche di amici di Cristal Radio, una presentazione, un album viene presentato questa sera al Rock'n'Roll Club di Milano, quindi save the date ragazzi, perché appunto questa sera gli SKV presentano il loro nuovo album, Humans SKV, che sono appunto degli amici di Cristal Radio, e che quindi siamo ben contenti di raccontare, di sponsorizzare la loro presentazione di questa sera appunto al Rock'n'Roll Club di Milano. Quindi mi raccomando, segnatevelo, gli SKV presentano il loro album Humans, appunto questa sera, venerdì 19 gennaio, al Rock'n'Roll Club di Milano. E ne parleremo magari anche nei prossimi giorni sicuramente, perché è successo il patatrack, è successo il patatrack in consiglio comunale, perché c'è stato il Corriere della Sera Milano, lo chiama Blitz, però diciamo che un pochino è stato così. Milano, il Blitz dei Verdi, via Carlo Monguzzi, ora il capogruppo è Tommaso Gorini. Ebbene sì, il nostro amico Carlo Monguzzi non è più il capogruppo dei Verdi. Dice la nuova nota che esce fuori, congiunta dai due consiglieri, gli altri due consiglieri, Gorini e l'altra consigliera, dicono che crediamo sia giusto dare più spazio politico ai giovani. E invece risponde Monguzzi dicendo che è un appiattimento alla linea del sindaco Sala. Carlo Monguzzi quindi non è più il capogruppo dei Verdi, e quindi Tommaso Gorini e Francesco Cucchiara sono invece gli altri due consiglieri comunali, hanno scelto, loro si può fare, lo scelgono i consiglieri, chi è il capogruppo. Tant'è che anzi, sembrerebbe che questa decisione non sia stata ben presa dalle alte sfere del partito dei Verdi, sia nazionale che territoriale, che lombardo-milanese, che dicono che, insomma, avrebbero preferito tenere Monguzzi, come dire, anzi bisognerebbe continuare a criticare, o meglio, a criticare in maniera costruttiva come secondo loro sta facendo Monguzzi, l'operato di una giunta che troppo spesso si dimentica di avere i Verdi, di essere una giunta appoggiata dai Verdi, con tanto anche di assessore in quota Verdi. La situazione è davvero incandescente, adesso vedremo come si comporterà Monguzzi, che comunque dice, non lascio il gruppo dei Verdi, io sono verde e non lascio i gruppi dei Verdi, molti dicono che tutto questo invece sia una manovra, e Monguzzi anche l'ha detto tra le righe, perché i consiglieri dei Verdi vengono poi in realtà annessi alla lista sala, in modo che diventi un'unica grande lista. Questa è una situazione da tenere sotto controllo e sicuramente non si faranno mancare i botte e risposta dai vari attori di questa situazione. Andiamo avanti con la musica, adesso fra poco ci fermiamo per una piccolissima pausa, non prima di ascoltare un pezzo mitico delle Spice Girl, perché sto parlando di Viva Forever, qui alle 7.25 su Crystal Radio. Questo è Good Morning Milano, noi ci risiediamo fra pochissimo, sempre qua per raccontarvi, per leggere, e poi arrivano gli eventi della settimana a cui Airbnb non va, quindi mi raccomando, prendete carta e penna. Ernia, ferma a guardare insieme ai primi tattici, 7.34 minuti, inizia la seconda mezz'ora di trasmissione, Good Morning Milano, ed è venerdì e quindi abbiamo come sempre la rubrica delle rubriche, così viene definita da con lei che la fa in realtà. Gli eventi della settimana a cui non andresti, giusto? Buongiorno a tutti, certo, gli eventi della settimana a cui io non andrei, e chiaramente voi siete liberi di fare quello che volete, quindi andate pure. Come va, come va? Tendiamo un velo pietoso su come va stamattina. Ok, allora iniziamo subito con gli eventi. Uno sicuramente ti piacerà tantissimo. Spedizioni veloci. Aiuto, ecco. Partita, partita, una roba che non c'è mai niente. Uno ti piacerà sicuramente tantissimo. Dal 19 al 21 all'Allianz Mico c'è una cosa dove tu dovresti assolutamente andare. Trenini? No, c'è il Paddle Trend Expo. Ecco. Ci manca solo quello, se non ci vado più a base, non gioco più a padel. Tra l'altro, mi sono informata perché ho detto, ma magari la gente può andare lì a giocare. Forse sì, non è ben chiaro, ma comunque vengono presentate le ultime innovazioni del mercato del Paddle, in sostanza. Il biglietto costa soltanto 18 euro. Ah beh, dai. Ma non si può giocare, non ho capito? Non si capisce. Ah, non sì, ma sì, che si potrà giocare. Secondo me si possono fare delle partitelle, ma... Sì, si potrà, sicuramente. Non lo so. Comunque, divertitevi e andateci. Visto che è la moda del momento, tutti giocate a Paddle, tutti siete dei padellari. Ecco, sì, sì. Poi, andiamo avanti. Allora, c'è un fantastico evento. Domenica 21 gennaio, dalle 11 alle 19, al Tempio del Futuro Perduto, che è in via Luigi 9-9. Mi fa molto ridere, tra l'altro, in via Luigi 9-9, ok? C'è il Market del Baratto. Cioè, stiamo tornando ai tempi indietro. Vabbè, che tanto c'è, ci sono tutte le applicazioni per lo sharing, tipo Vinted, ma... O Ieppo, Weppo, una roba del genere. Quindi c'è anche la possibilità di andare e barattare qualcosa. Eh, perché non ci vuoi andare? Perché non mi piace fare questa cosa. Vabbè, ok. Il Tempio del Futuro Perduto è... In via Luigi 9-9. Sì, sì, 9 o 7, dipende dall'ingresso, ma è dietro la famiglia di vapore. Ok, sì, 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 sì. Poi c'è questo bellissimo evento che ho trovato su Facebook. Quelli che trovo su Facebook sono sempre le cose che mi piacciono di più, anche perché solitamente vuol dire che qualcuno dei miei amici di Facebook ha messo like a questa cosa, di modo che io possa vederlo. Incontrare lo sciamanesimo. Tra l'altro ho scoperto che è un evento che c'è tutte le settimane. Milano, 20-21 gennaio, seminario base. Milano poi viene fatto in una cascina vicino a Magenta. Però, vabbè, dicono Milano. C'è la metropolità. Dalle 9.30 alle 18.30 c'è questo incontro immersivo per imparare lo sciamanesimo. Ti piacerebbe? Sviluppo la parte spirituale di te. Ok, puoi andarci allora. Sei nel mood corretto. Bravissimo. Poi, vabbè, uno dei miei nemici numero uno. Nemici numero uno. Per sempre. Ci sono poche cose nella vita che mi danno fastidio, ma questo è sicuramente uno di quelli. Domenica dalle 10.00 c'è l'East Market. Ed è East Market Welcome 2024. È il primo dell'anno, sarà scoppiettante. Che bello. Cosa c'è l'East Market che non va niente? Dov'è che viene fatto tra parentesi? È giù in fondo. C'è meccanate. No, no, non più lì. Guarda, non sai mai niente. Non so mai niente. Non è più lì l'East Market, non è più l'Abrate. Vabbè, comunque, non mi piace perché è troppo fighetto. Ah, ecco. E poi si paga il biglietto per entrare. Come si paga il biglietto per entrare? Sì, c'è il biglietto d'ingresso. No, raga, non mi avrete mai. Niente. Niente. Ho ancora l'ultimo evento. Sì, 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 prego, prego. L'ultimo evento è una cosa che, tra l'altro, conosco persone che ci vanno e mi chiedo perché. Cioè, te lo fai da solo e la stessa roba. C'è la Walk Zone Milano al Parco Sempione. Dalle 9.30 alle 11 ti danno le tue cuffioni e cammini intanto che fai ginnastica con i tuoi amici sconosciuti. E questa cosa, l'affitto delle cuffioni, costa ben 10 euro più 2,20 euro di prevendita. Quindi 12,20 euro. Ora, ciascuno di voi avrà delle cuffie. Puoi andare a camminare in qualsiasi parco e fare gli esercizi, no? Vabbè, magari conosci gente. Ma se hai le cuffie. Ma credo che nelle cuffie senti quello che dice l'istruttore, no? Sì, sì, sì. O la musica. No, 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 senti le istruzioni che ti dà l'istruttore, ma allo stesso tempo puoi sentire la musica e ti gasa. Ma a questo punto lo puoi fare con i tuoi amici. Se li hai, mi viene da dire. Questa volta vengo dietro a te, mi sa. Allora, va bene. Ricapitolando. Vai. C'è la fiera del paddle. Poi c'è il market del baratto. L'incontro dello sciamanesimo. L'ease market e la walk zone. Io ve li ho detti. Poi voi fate quello che volete. A me non mi vedrete. Ecco, benissimo. E allora buongiorno anche a voi. Grazie mille, Eribi, delle tue idee per il weekend. Per cosa non fare in questo weekend, nei primi giorni della prossima settimana. E quindi poi noi ci rivedremo venerdì prossimo. Ok, buona giornata. E allora buona giornata a tutti. Buona giornata anche a chi ci sta ascoltando in questo momento. Andiamo con un po' di musica. È il momento di Alfa con Bellissimissima. E allora, 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 bentornati. E adesso, allora, scusate, mi viene da ridere perché sto leggendo due titoli dei due maggiori quotidiani italiani. Repubblica e Corriere della Sera. Sezioni di Milano. Ok. Vi leggo i titoli perché, davvero, io non... Va beh. Allora, Corriere della Sera Milano. Previsioni meteo venerdì 19 gennaio. A Milano e in Lombardia, aria artica e piogge. Sotto, nell'articolo, dice anche... Velle 19 a tempo, impeggioramento da pomeriggio e sera, con precipitazioni diffusi e possibili fiocchi tra la pioggia. Ok? Poi, per la Sera Milano c'è il resto... Comunque, ok, quindi dalla pioggia. Soprattutto nel titolo dice pioggia. Ok? Repubblica Milano. Le previsioni per il fine settimana a Milano. Soleggiato ma molto freddo. Decidetevi, però. Nel senso, non si capisce. Gli esperti dicono che le temperature in città potrebbero scendere sotto zero. Nello stesso momento, Corriere della Sera dice Temperature, la più alta toccherà 8... La massima è 8 gradi. La bassa, la minima, è 4 gradi. Boh, va beh. In realtà, poi, se andate a leggere gli articoli, i problemi sono sempre i titoli. I problemi sono sempre i titoli. Perché poi, se andiamo a leggere invece gli articoli dentro e si sviluppa tutto il metodo di oggi e del weekend, cosa succede? Allora, oggi dovrebbe peggiorare. Pioggia, dovrebbe esserci pioggia. Poi, da domani, invece, migliora. C'è il sole, tanto che nel weekend, domenica compreso, sole che spacca i monti, ma un freddo becco, si dice da queste parti, ok? Questo è quello che dicono. Poi, in realtà, le previsioni in questo istante danno solleggiato con nebbia a Milano già oggi, quelle belle che avete sullo smartphone, che in realtà non sono previsioni, ma sono guarda fuori dalla finestra. Non so se mi siete mai accorti che voi vi dite, fammi vedere che tempo c'è. E vi dice che fra due ore c'è il sole, ad esempio. Poi, dopo, durante la chat, lo vedete anche voi, che il sole non sta uscendo, andate a rivedere l'app e vi dice, no, c'è nuvolo. E dite, ho capito, sono capace anche io di farla così. Quindi, io la chiamo l'applicazione, apri la finestra e guarda fuori, perché tanto è la stessa identica cosa. In realtà, Spets, una lancia a favore dei meteorologi e anzi, questo dovrebbe far capire quanto il sole riscaldamento globale, quanto il climate change è importante e distruttivo, perché i modelli, i modelli matematici che vengono applicati alla meteorologia non sono più infallibili, o meglio, non sono più stati aggiornati perché il meteo cambia troppo velocemente e quindi i modelli sono difficili da aggiornare. E tutti i meteorologi lo dicono, cioè siamo sempre più in difficoltà nel prevedere le previsioni che, vi dico la verità, se sbagliano a me che devo uscire di casa ad andare in Duomo, mal che vada, mi bagno i piedi o mi bagno la testa, vabbè, prendo il primo ombrello che trovo all'uscita della metropolitana. Ma, se lo dicono, se sbagliano le previsioni per delle navi che devono attraversare l'oceano o degli aeroplani che devono fare dei voli, lì le cose sono un po' più complicate. Quindi, quando diciamo che no, ma il clima non sta cambiando, no, ma tanto è normale, non centriamo niente in noi esseri umani, il cavolo, perché poi ci sono delle conseguenze davvero, davvero distruttive, come ad esempio quella di non riuscire più a prevedere il tempo. Cioè, le previsioni del meteo, le previsioni del meteo sono una cosa importantissima. Noi poi le riduciamo a le meteorine in tv o i colonnelli che ci fanno vedere in televisione l'alta e la bassa pressione, ma in realtà va a implicare tantissimi altri momenti della vita del mondo, i trasporti in primis, ad esempio, che sono molto molto importanti e non facili da prevedere appunto con questi modelli che non sono più ormai aggiornati. Nightmare, Nightmares, Nightmares, Nightmares Pinguini Tattici, Nightmares, eh? Vabbè, comunque, no, con un po' di entusiasmo ogni tanto ci vuole. Anzi, 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 anzi. 331-78-5355. Grazie mille a Marilena che ci scrive Grazie Eribi! Riferendoci all'intervento di prima di Eribi con gli eventi della settimana a cui lei non andrebbe. E Marilena invece dice Mi interessano tutti! Brava, Marilena. Chissà se ti interessa anche lo sciamanesimo. Quello mi ha colpito. Viola, andiamo a fare... Parlo con Viola, la mia produzione. Andiamo a fare il corso di sciamanesimo. Va bene? Sviluppiamo lo sciamano che è in noi. Chissà cosa... Trovo l'acqua oppure faccio... No, 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 quello del Rabdovante non c'entra niente con lo sciamano. Vabbè, però magari faccio una roba del genere. Tramuto la Coca-Cola in acqua. Nuovi miracoli del ventesimo secolo. So che molti dovrebbero invece tramutare l'acqua in vino come qualcuno ci ha fatto prima o la Coca-Cola in Red Bull. Però no, noi siamo... Sapete che non bevo alco e quindi mi spiace. Dalla Repubblica, scusate, Repubblica Milano leggiamo un titolo su cui ho da dire la mia. Ovviamente quando mai non ho qualcosa da dire. Addio guinzaglio sui prati. La svolta amica dei cani al Parco delle Basiliche. Ebbene sì, la mattina presto e il tardo pomeriggio i proprietari potranno portare a passeggio gli animali lasciandoli liberi all'interno del recinto del giardino non dell'area cani. Sapete che tutto il Parco delle Basiliche che poi è Piazza Vetra cioè, quello una volta si chiama Piazza Vetra però poi la dico brutta? Poi ci si andava a drogare in Piazza Vetra allora no, chiamiamo il nome quello che abbiamo il Parco delle Basiliche ma alla fine è sempre quella roba lì. Comunque il Parco delle Basiliche si potrà la mattina presto o il tardo pomeriggio portare a drogare e lasciarlo libero nei prati. Allora allora silenzio infatti no, allora se c'è qualcuno che non ama le regole in questo mondo ecco ce l'avete qua al microfono cioè a me proprio le regole non mi piacciono per niente però ahimè per vivere in una società civile queste regole servono e quindi bisogna metterle facciamo una fatica boia a far sì che i cani vengano a guinzaglio nelle varie zone nei parchi ma di marciapiedi nelle strade ma io poi ripeto da amante dei cani da proprietario dei cani io ho avuto dei cani per più di 15 anni anche per i cani stessi cioè il guinzaglio se è messo bene se è gestito bene tutto è una cosa che tranquillamente non limita la libertà del cane ecco come dire poi dopo di che in casa può fare quello che vuole saltare su tutti i vostri mobili sul divano sul letto dormire insieme a voi voi per terra e lui sul letto come volete senza problemi ma quando sei in giro c'è un mondo intorno anche che insomma deve essere ben combinato anche con te e il tuo cane già quindi sappiamo di cani che scompaiono scappano vengono tirati sotto le macchine non si trovano e tutto perché perché lasciati liberi poi si spaventano scappano parco di treno uno su tutti ogni tre per due qualche cane che scompare al parco di treno non si ritrova più smarrito 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 in questi giorni in città ci sono in giro marea di cartelloni con smarrito un cane di qua di là e quasi mai perché hai aperto la porta di casa e quello esce comunque vabbè no adesso facciamo questa cosa qua facciamo che rilasciamo liberi i cani ma poi neanche tutto il giorno perché questo è il problema se tu dici in quell'area lì puoi lasciare i cani liberi vabbè parliamone ma no solo in certi orari come cavolo si fa a gestire una cosa del genere capite che poi dopo già facciamo fatica a fare cultura sul tenere guinzaglio e tutto quanto in plural liberi tutti lì io credo che veramente a volte le cose benissimo appunto amo tanto così tanto i cani che bisognerebbe che le regole vengano fatte bene così che tutti quanti possiamo amarli ancora di più e questo è Raffaella Carrà con Rumore bentornati a Good Morning Milano bentornati nella seconda parte di trasmissione ultima seconda ora di trasmissione ultima ora di trasmissione ma beh è un'ora quindi abbiamo ancora tanto tanto da dire bella notizia che arriva da Milano dalla Repubblica Milano andiamo a leggere questo articolo le nonne di Crescenzago fanno cappelli caldi per il senza tetto e la casa della carità l'iniziativa solidale di Angiolina portata avanti le sue amiche ebbene sì perché dopo la morte della storica volontaria appunto Angiolina la tradizione non si è interrotta e in via Brambilla Crescenzago ormai arrivano anche in tre famiglie per chiedere abiti e biancheria ebbene sì perché le nonne di Crescenzago si sono messe all'opera anche quest'anno per realizzare i capelli i capelli destinati ai senza tetto che vanno in mensa o alle docce della casa della carità di Milano ieri sono appunto arrivati i nuovi capi confezionati a mano dalle signore anziane del quartiere nonne brave con gli uncinetti e con i ferri che sferruzzano per mesi per non lasciare al freddo poi chi non ha casa e nemmeno anche insomma e non si limitano proprio le capelli perché poi arrivano anche abiti caldi per la stagione più rigida insomma si danno da fare quindi una bella iniziativa appunto in quel di Crescenzago la cosa interessante è che questa iniziativa è data appunto da una volontaria che si chiamava anni fa appunto la angiolina così la chiamavano l'angiolina la storica volontaria che andava a fare appunto il faceva anche la pedicura ai senza tetto cioè si prendeva cura dei senza tetto si prendeva cura dei senza tetto da tanti anni e poi iniziò a fare questa iniziativa dei cappelli fatti all'uncinetto ai ferri e le sue amiche hanno proseguito questa questa bellissima tradizione che continua appunto in quel di Crescenzago insomma queste sono quelle belle storie che ci piace raccontare e che ci fanno capire come tutti quanti tutti noi possiamo con un piccolo pizzico con un ferro con un incinetto portando un qualcosa del bene fare del bene per la città che poi vuol dire fare del bene anche per noi stessi per tutti quanti migliora veramente la vita di tutti quanti lo sappiamo bene anche noi qua a Milano All News quante volte abbiamo visto passare realtà città che fanno davvero tanto 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 nella nostra città anzi vi ricordo che fino al 29 di giugno potete ancora votare sul nostro sito internet per i Milano Non Profit Awards sono tantissimi tantissimi i voti arrivati nove categorie tantissime realtà del mondo del terzo settore non profit associazioni volontariato fondazioni tantissime realtà nelle più disparate appunto sono nove le categorie e potete votarli sul nostro sito così che possiate dire anche la vostra e magari aiutare qualche associazione a farsi conoscere sempre di più sul territorio milanese perché davvero fanno tanto e spesso volentieri non se ne parla abbastanza siamo abituati a leggere sui giornali solo di notizie gravi di leggere che le periferie sono degrado e nient'altro invece spesso volentieri ad esempio in questo caso anche Crescenzago periferie di Milano ma grande cuore grande iniziative dove si va ad aiutare appunto qualcuno che è meno fortunato di noi e facendo questo gesto aiutiamo tutta la grande città di Milano andiamo avanti con la musica adesso è il momento di Pink con All Out Of Fight 8 e 11 minuti Good Morning Milano Bentornati a Good Morning Milano eccoci qui adesso arriva il momento dell'ospite perché insomma oggi stiamo leggendo un po' i giornali sapete tutta la notizia che la Cassazione ha detto che è reato se c'è pericolo fascista e quindi nel 2016 quando si fu il saluto ai romani per la collaborazione a Ramelli insomma adesso si è da rivedere tutto quel caso si riapre il processo perché in prima istanza erano stati assolti poi condannati adesso la Cassazione dice no è reato solo se c'è pericolo di ritirazione della costruzione del partito fascista insomma questa 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 decisione la Cassazione ha portato davvero tantissimi a domandarsi da che parte si sta andando e soprattutto anche dopo quello che è successo a Roma per il ricollo appunto di 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 è comparsa in un luogo abbastanza particolare o meglio indicativo ma credo sia stato scelto opposta lo chiediamo ovviamente all'artista Cristina Donati Meyer che abbiamo in collegamento con noi che appunto ha fatto un quadro antifascista davanti proprio alla sede di Fratelli d'Italia in quel di Corso Buenos Aires giusto Cristina buongiorno buongiorno a tutte e a tutti allora esattamente la scelta del luogo come come hai detto tu non è per nulla casuale ecco insomma è stata una bella presa di posizione tu sei una che non è che si nasconde mai quando c'è da dire la propria tu porti avanti una tua corrente possiamo chiamarla così quella dell'artivismo giusto esattamente sì artivismo artista e attivista nel nello stesso concetto ti sei sentita però tirata in caso in questo caso detto io qua devo fare qualcosa cosa è stato a smuoverti cosa vuol dire per te aver fatto quest'opera e le conseguenze anche so che insomma non è una cosa semplice quello che sta succedendo adesso è no appunto l'opera che si intitola cacca la rentia defascistizziamoci richiama appunto lo scandalo dei 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 mille dei mille fascisti e del loro show a a roma sul quale la presidente del consiglio ovviamente taciuto e il presidente la russa derubricato a ragazzata si intitola prova provocatoriamente così perché mi auguro e auspico che tali immagini che riportano al periodo più buio della storia italiana non debbano mai più vedersi e che le organizzazioni neofasciste e neonaziste siano sciolte e trattate assolutamente come come meritano ovviamente in seguito alla realizzazione dell'opera come come dicevi tu ho ricevuto insulti insulti sessisti minacce e diciamo che l'avevo messo in conto ovviamente ci tengo a dire che l'opera e l'intervento nulla centra con i tre giovani uccisi ma bensì con lo show orribile a cui abbiamo assistito ma ti sembra normale che bisogna ancora cioè tu hai dovuto fare questa specifica adesso nel senso dicendo guarda io non ce l'ho su con tre giovani che sono stati ammazzati ad accalare in sé ma ce l'ho su con lo show che è avvenuto appunto con lo che mi tu lo show fascista che è avvenuto qualche settimana fa è ancora qui che dobbiamo stare a dire così ebbene sì perché sono stati in primis decorato e foti a mettere diciamo la pulce all'orecchio e insinuando che io ce l'avessi appunto con con la tragedia dei tre ragazzi quando è assolutamente fuori questione sotto gli occhi di tutti quale sia il vero problema principale in questo momento queste adunanze che il governo fa finta di non vedere e insomma noi vediamo bene invece con gli occhi ben aperti ho letto la dichiarazione di foti non sto leggendo da tutta ma sul finale devo dire che però ti ha fatto un complimento secondo me alla fine cioè nel senso che lui dice questa più che street art altro non è che guano art è bellissima la guano art eh allora innanzitutto adesso è anche critico critico d'arte questa cosa meravigliosa fantastica e poi oh che ne so magari dal via un nuovo movimento guano art vediamo dai ci penso Cristina Donati Meyer l'avanguardia dei guanaisti va bene qualcosa del genere eh vabbè un nuovo movimento artistico è sempre un crescendo infatti un nuovo movimento artistico ehm spesso e volentieri lo si dice soprattutto nella musica a volte no? e poi dopo comunque per fortuna abbiamo avuto anche eh Guccini di Andrea e quella gente lì però spesso e volentieri quando magari un cantante o un artista così fa politica si dice no però faccia il suono lui canti le sue canzoni nel tuo caso tu fai i tuoi quadretti e non e non stare a a a rompere le scatole alla politica invece per te è fondamentale fondere le due cose? Allora l'arte a mio parere deve essere un tutt'uno con la vita immergersi nella realtà soprattutto in un momento storico come questo gli artisti devono insorgere e aiutare a riflettere l'arte deve e può offrire agli spettatori spunti di riflessione deve comunicare provocare insomma costringere la gente ad usare la coscienza e il cervello che sono sempre messi più a dura prova dall'abuso dei media, gli social eccetera eccetera per me oggi l'arte o è impegnata oppure risulta mera decorazione Ah giustamente ok e come hai iniziato tu? come ti sei approcciata appunto a questa modalità, a questo artivismo? è nata prima l'arte o l'attivismo per te? sono nati contestualmente fin da piccola ho fatto sia uno che l'altro sono sempre stata un'attivista per i diritti degli animali per l'ambiente femminista e antifascista convinta e sta di fatto che a un certo punto di questo cammino ho deciso di unire le mie due passioni e diciamo che ho coniato questo termine artivismo mi sono data da fare con gli strumenti che ho a disposizione arte, pennelli, spray, idee, bombolette per portare sui muri di Milano ma non solo quelle che sono le mie provocazioni per svegliare un po' le menti sopite per fortuna non di tutti ma di alcuni ecco poi che fine fanno le tue opere? riescono a rimanere lì per un po' oppure vengono subito cancellate da chi non digerisce il tuo pensiero dipende ci sono alcune che sono più impermanenti e durano davvero poco qualche ora e poi vengono a vallarizzare addirittura qualche ora sì 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 per fortuna poi le opere continuano a vivere comunque tramite le foto Instagram i social da quel punto di vista hanno un loro senso Cristina qualcosa di buono qualcosa di buono hanno fatto anche loro assolutamente sì come tutto bisogna vedere l'uso che se ne fa ecco perché appunto anche loro abbiamo scherzato prendendo in giro i social però spesso ventri poi così ci si divide subito in un attimo favorevoli o contrari sempre su tutto notizia anche di oggi ad esempio una scritta antisemita perché vicinissima alla sinagoga di Milano dove verrebbe dire anche giustamente viene richiesta il cessato del fuoco su Gaza ma poi si trascende in altro o meglio non si capisce poi mai qual è il limite lì nel senso che appunto da una parte c'è una sacrosanta richiesta di un cessato del fuoco e di fermare una sorta possiamo chiamarlo forse quasi genocidio direi o comunque un momento davvero complicato di tragedia umana che sta avvenendo in quel di Gaza dall'altra però subito poi si corre al ecco siete antisemiti ce l'avete su con gli ebrei e tutto cioè ci si divide anche quando si parla di salvare la povera gente l'urlo di dolore della Palestina dovrebbe essere ascoltato adesso andando oltre a tutte le idee che potevamo avere dobbiamo ascoltare quel popolo sta è decimato lo stanno appunto genocidio tu hai usato una parola assolutamente giusta quindi che facciano una scritta sulla sinagoga è il minimo ripeto è un minimo per quell'urlo di dolore che noi non stiamo ascoltando o ascoltiamo davvero troppo poco io Cristina ti ringrazio davvero tanto insomma grazie per il tuo artivismo tu sei una di quelle che fa artivismo diciamo ti senti un po' sola o comunque c'è un movimento che riesce a farlo ancora come dovrebbe fare l'arte a volte appunto di farci come dicevi tu anche darci una scossa alle nostre coscienze di noi che passiamo vediamo e forse abbiamo quei sei secondi in più di pensiero che proprio finalmente almeno per sei secondi facciamo un bel pensiero no no ci siamo siamo parecchi e parecchi in Italia e nel mondo noi artivisti e ci faremo sempre sentire sempre di più e sempre più più forte i nostri colori saranno sempre più più vivaci in modo che siano davanti agli occhi di tutti perfetto allora io ti ringrazio tantissimo grazie mille a Cristina Donati Meyer cercatela dacci le coordinate velocissime sui tuoi social così possiamo cercare quello che fai si Donati Meyer su Instagram e trovate tutte le mie opere perfetto allora io ti ringrazio davvero tantissimo spero magari un giorno di avverti anche qui ospite in studio con noi per parlare più ampiamente di quello che fai e di come appunto quella cosa di smuovere le coscienze secondo me è un obiettivo davvero lodevole alto e che spero che qualcuno magari davvero anche oggi passando davanti le tue opere abbia quel fremito quindi grazie mille Cristina davvero grazie a voi Wallah Wallah Gali 8 e 33 minuti ben ritrovati bentornati a ultima mezz'ora ultima mezz'ora di trasmissione qui in vostra compagnia dove dobbiamo darvi qualche aggiornamento su ATM perché c'è un succede ora sapete che vi arrivano le notifiche sulla app e sul sito di ATM succede ora e c'è una lista immensa di linee che in questo momento stanno rallentando per via del traffico la notizia è il traffico in diverse zone della città sta rallentando la circolazione delle linee 34 42 55 81 84 87 93 121 130 e 902 qualcuno ha fatto tombola qualcuno ha fatto ambo cinquina non so comunque ma semplicemente per il traffico cioè è quello che non capisco cioè buavè niente oggi in molti momenti c'è traffico più intenso rispetto al solito quindi il traffico sta rallentando tutto questo popò di linee quindi considerate maggiori attese alle fermate e ai tipi di viaggio più lunghi bene grazie del consiglio sempre sul sito ATM in realtà la notizia di qualche settimana fa però devi ricordarla perché poi le robe tornano sul Facebook le truffe tornano facili ATM dice dal sito c'è proprio una news dice ATM non sta promuovendo offerte commerciali su Facebook perché cosa sta dicendo cos'è questo riferimento riferimento abbiamo già parlato nelle scorse settimane ma se qualcuno non si fosse accorto lo ridiciamo adesso c'è un paio di pagine su Facebook che dicono che con una minima cifra per 12 mesi avrai gratuita la metropolitana poi ricevere una card gratuita per usare per 12 mesi la metropolitana tipo a 2 euro a 3 euro una cosa del genere ecco tutto falso non è vero niente non è vero niente e infatti ATM precisa appunto di essere completamente strana l'iniziativa nonché di non avere nessun accordo commerciale o di altro tipo con questo operatore quindi ATM non sta promuovendo offerte commerciali su Facebook grazie però ATM per scriverlo sul sito così che almeno chiunque passi di lì a vedere gli orari lo sa insomma sempre meglio sempre meglio dirlo perché poi insomma le truffe e non solo le truffe agli anziani perché poi ci finiscono dentro chiunque ci finisce dentro anche quello che magari è distratto vede clicca sappiate che non è così se volete i biglietti ATM se volete essere ATM ci sono le macchinette in metropolitana o i punti ATM cioè si va lì ATM point si va lì con le code lunghe ma anche lì c'è l'app che potete però prenotarvi prendere il nostro numerino quindi arrivate superate la fila la gente vi manda a quel paese ma voi siete legittimati dal numerino dell'app quindi potete farlo 3317853555 numero di whatsapp scriveteci grazie ancora a tutti quelli che ci hanno scritto questa mattina grazie Marco che ci fa gli auguri di una buona giornata e dice nel traffico anch'io non solo è arrivato adesso questo whatsapp di Marco dice anch'io nel traffico quindi non solo le linee ATM sono rallentate ma anch'io sono molto molto lento grazie Marco allora per averci scritto 3317853555 vi aspetto qui fra poco subito dopo ascoltare un pezzo pazzesco dei Maneskin che è Coraline 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 i Maneskin Coraline beh è proprio poesia allo stato puro poesia allo stato puro Maneskin musica e tutto questo che ci può rimandare un po' ad esempio a Sanremo perché vi ricordo che ad esempio abbiamo non ad esempio dovete non ve lo ricordo anzi vi ordino posso ordinare qualcosa ai nostri ascoltatori dovete sì mi dice di sì Viola della regia benissimo dovete 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 iscrivervi alla Fanta Lega del Fanta Sanremo di Crystal Radio la Crystal League che tra l'altro è un nome bellissimo pensate c'è la Champions League e la Crystal League dovremmo vendre la FA Cup come si chiama quelli inglesi che fanno tutte cose fighe ecco comunque Crystal League voi vi scaricate l'applicazione di Fanta Sanremo fate la vostra bella squadretta cercate nella Lega sono tipo un miliardo e mezzo ci siamo anche noi c'è la Crystal League e vi iscrivete cosa vincete? assolutamente nulla vi piace come premio? eh sì è così ma volete mettere la gloria di essere l'ascoltatore di Crystal Radio che potrà dire ho vinto il Fanta Sanremo di Crystal Radio eh mica cotiche come si dice in questi casi quindi vi invito ad andare sul Fanta Sanremo e scaricare l'applicazione e fare la squadra e iscrivervi alla Lega già che siete lì in giro col cellulare a fare cose e iscrivervi di qui di là vi ricordo ancora che potete votare anche per i Milano Non Profit Awards cosa sono? sono i premi che Milano All News dà tutti gli anni alle realtà che si contraddistinguono in città o meglio non li diamo noi li date voi ci siete voi che votate noi semplicemente facciamo il passapremio cioè voi dite chi deve vederlo noi prendiamo il premio e glielo diamo facciamo così il 19 di aprile ci sarà una bellissima serata finale con tanti di evento dal vivo con tanti ospiti tante premiazioni una sorta di serata degli Oscar di Milano e per farlo però dovete votare dovete votare fino al 29 di gennaio sul sito di Milano News c'è il pulsante vota qui votate nelle nuove categorie scegliete chi è il vostro preferito nelle nuove categorie e i nuovi vincitori verranno appunto scoperti sul palco il 19 di aprile proprio con la busta andiamo aprendo la busta le nomination sono and the winner is e vedremo chi vince chi saranno le realtà del non profit più votate e quindi anche più seguite più amate o che riconoscete abbiano fatto un buon compito durante gli ultimi 12 mesi ogni anno lo facciamo dal 2017 prima si chiamavano Milano Storytelling Awards adesso si chiamano Milano Non Profit Awards e noi di Milano News ovviamente vi racconteremo come andrà e vi racconteremo chi saranno i vincitori ma magari man mano che adesso quando si finiranno ci chiuderanno le votazioni così non andiamo a influenzare il voto vi faremo conoscere tutti i vari candidati quasi 30 candidati sono 9 categorie per 3 candidati a una categoria qualcuno vi dico anche che è candidato in più categorie quindi insomma eh sì perché già voi avete scelto chi candidare nella prima fase di Milano Non Profit Awards poi invece adesso avete la possibilità di votare per farli vincere Milano Non Profit Awards andate sul sito di Milano News c'è il pulsante e votate ok mi raccomando se no poi dopo non lo sapevo ma come non lo sapevo se no non lo fa vi dico le cose fatele se no poi io Fantasarremo e Milano Non Profit Awards se no te già dico il cellulare fate tutte e due che cosa vi costa eh sì non vi dico come finisce questa canzone sapete che ero il vizio di cantare l'ultima frase l'ultima parola della canzone ecco in questo caso era meglio non cantarlo perché c'è un che non si può dire anzi anzi non lo farei mai perché vi voglio troppo bene che passate tutte le mattine insieme a noi come dico sempre grazie per farci entrare nella vostra routine quotidiana grazie ancora anche ai messaggi che stanno arrivando al 331 7853555 e fra poco ci dobbiamo però invece salutare perché siamo quasi arrivati alla fine della nostra puntata puntata dove abbiamo conosciuto più da vicino Cristina Donati Meyer vi ricordo di andarla a cercare sui social perché con le sue opere il suo artivismo dà veramente un senso a quello che vuol dire essere un artista dà un senso anche magari al nostro camminare per la città vedere certe opere e rimanere giustamente colpiti anche a volte con quel pugnetto nello stomaco che un po' ti fa sussultare ma che è importante perché se no che arte sarebbe se no che vita sarebbe se fosse tutta gestita dai nostri algoritmi e dalle nostre bolle di roba che ci piace ascoltare tutte sempre uguali ogni tanto ogni tanto cercate cose che non vi piacciono ad esempio magari non sapete che poi vi può piacere Good Morning Milano ad esempio cioè così per caso finite qua e scoprite che su Crystal Radio tutte le mattine dalle 7 alle 9 c'è una trasmissione bellissima che viene prodotta qui negli studi di Milano News in quelli di San Siro e che vi racconta tutta la città di Milano tutti i giorni every day any given Sunday diceva il film ogni maledetta domenica con noi ogni maledetto giorno siamo qui ma questi giorni non sono più maledetti perché grazie a voi diventano bellissimi e diventano giorni fantastici da passare insieme siamo vicini quasi alla puntata numero 100 siamo quasi Violeta contenta che vuole fare la puntata speciale dei 100 facciamo 100 candeli gli diamo fuoco la 100 candelina prende fuoco tutto lo studio quindi no facciamo una roba più 100 lampadini 100 led facciamo 100 led e poi li accendiamo li spegniamo grazie a tutti i giorni grazie a tutti i giorni